Tu hai fatto la tua valise se è arrivato, ti aspetti una telefonata anche in questa estate? Assolutamente sì, spero di sì, poi ripeto, ci sono tante valutazioni da fare fin quando dopo non... Cioè la tua idea è di andare avanti ovviamente? Assolutamente sì, poi dopo la società farà le proprie scelte, partire da direttore, allenatore, e poi da lì imposteranno la squadra. Però ecco la tua disponibilità, qualora, ti chiedo, saresti anche disposto a chiudere? Qualora il Cesena dovesse... Ma se non dovesse sicuramente da un'altra parte non continuerei, ecco. Quindi ecco, a maggior ragione, per far continuare De Feudis bisogna portarlo anche l'anno prossimo, insomma. E vabbè, dopo ovviamente sarà il direttore sportivo e saranno appunto gli uomini dell'area tecnica a decidere.